crutch bind set 15 of the week 15 of the week anche questa settimana mi sono intorcolato con le parole in attesa della live di stasera con ottavio se vedete questo video oggi alle 9 se lo vedete più tardi invece sarà già andata la live che potete comunque ovviamente rivedere ma iniziamo subito questa settimana rugby internazionale e allora sono andato con 15 nomi senza fare le le menzioni onorevoli diciamo che bisogna scegliere nella vita e allora ho preso 15 15 giocatori e giocatrici perché non ci dimentichiamo che c'erano anche le semifinali della cupa del mondo e vi dico i miei 15 della settimana numero 1 thomas gallo thomas gallo 80 minuti filati a tuickenham gli argentini sono andati a contare e hanno visto che erano 33 anni che un pilone sinistro non si faceva 80 minuti filati senza essere cambiato il nostro thomas gallo l'ha fatto niente poco di meno che a tuickenham contro l'inghilterra in una partita vinta dai pumas beh insomma abbiamo rivisto il thomas gallo che avevamo già visto nella partita monster con l'australia quest'anno nel championship e che avevamo visto anche a volte in benetton treviso più di una volta in benetton treviso lo aspettiamo su questi livelli anche al suo ritorno in maglia bianco verde numero 1 della settimana thomas gallo 2 allora conferma dello stato di forma stratosferico placaggio su dutoit che causa una penalità turnover chiave dovunque in rimessa laterale in moll nel breakdown dan shinan dan shinan in una settimana di nuovo con ottime prestazioni dei tallonatori da montoya coi di taylor però dan shinan continua sull'onda lunga di quello che sta facendo vedere a l'einster in ulc numero tre e qui andiamo nella coppa alla coppa del mondo femminile con il canada e scegliamo delle haka manning una delle tante che avremmo potuto scegliere del canada soprattutto tra le avanti un canada che è andato veramente veramente vicino a fare l'upset del secolo nel mondiale femminile delle haka manning la pilone destro di questa settimana numero 4 numero 4 beh questo nome l'abbiamo già sentito mille e mille volte nelle nostre classifiche insomma ben ezebet ben ezebet ben dai l'offload per la meta di arenze ci racconta l'ennesima storia di un gigante che non è solo tutta potenza e dominio fisico ma sa anche inventare rugby ben ezebet la nostra prima seconda linea e invece la nostra seconda seconda linea e ma da su fall allora semifinale partita incredibile incredibile veramente una delle più belle mai giocate tra francia e nuova zelanda e ma da su fall e la prima per la francia in metri fatti 22 placaggi e zero sbagliati per questa gigante francese che è stata gigante non solo nei centimetri ma nel gioco di quella che poteva essere un'altra sorpresa nel di quella che poteva essere l'altra sorpresa che non c'è stata insieme a quella del canada però insomma la francia ci è arrivata veramente vicina 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 tanto così gli è mancato solo quell'ultimo calcio della droga numero 6 anche qui restiamo nella coppa del mondo femminile e allora scegliamo alanna brenner cercava la rivincita con le francesi l'aveva dichiarato in settimana per mettere un po di pepe alla sfida e ha risposto ha risposto a suon di placaggi alanna brenner numero 7 beh parliamo di un giocatore che è inserito nella discussione di miglior giocatore del mondo assieme a pochi altri secondo me c'è lui c'è ovviamente dupont c'è lucanio am e poi c'è il giocatore che nomineremo dopo di lui comunque insomma inserito nella discussione sul miglior giocatore del mondo fa una meta e spinge l'irlanda in una prova fisica in difesa veramente ai limiti delle possibilità umane parliamo di van der flier numero 8 eccolo qua chi è altro giocatore che si nomina in quella discussione ardi savea a proposito di discorso sui migliori del mondo dopo aver letteralmente preso sulle spalle gli all blacks nei momenti più complicati del championship poi vinto è di nuovo leader di tutti i neri la foto della partita insomma quella finta quella finta la finta più telefonata del mondo su cui però si cascano sempre e comunque tutti ardi savea numero 9 attenzione perché nei 15 of the week questa settimana viene citato quasi ovunque a ron smith però però sarebbe potuto essere a ron smith e sarebbe stata forse la scelta più facile però io voglio premiare questa settimana stephen lorenzo varmi e il fatto che lo metta davanti al dio sacro no e per di più in giornata di grazia dalla misura della prestazione di stephen varmi beh ragazzi se riguardate la partita dell'italia vi rendete conto che varmi fa una partita perfetta 250 22 e mezzo perché poi c'è anche quello che non gli viene contato perché la palla era stata portata dentro da una mischia ma il gesto tecnico c'era un bellissimo assist meta over the top col passaggio dal raggruppamento insomma sono cose che non sono da tutti i giorni non sono da tutti i giorni per un ragazzino perché varmi resta un ragazzino che non ha minuti nel club quindi anche fuori da quel ritmo gara tanto importante per un mediano di mischia con tutti gli occhi addosso dove tutti avevano detto che forse lui era l'anello debole della catena dell'italia e invece ne esce fuori con un man of the match perfetto altro che anello debole cari analisti del piffero come dan patrani come danilo patella altro che anello debole stephen varmi ne esce fuori con la medaglia al collo di man of the match è realmente importantissimo per la vittoria dell'italia su samoa secondo me questo merita la numero nove della settimana numero dieci ecco su uno dove ce n'erano molti meno di dubbi restiamo in maglia azzurra quindi mediana del 15 of the week tutta azzurra e allora forse ci rendiamo conto anche di dove l'italia abbia vinto la partita con samoa perché alla numero dieci e qua non solo io in tanti hanno premiato questa settimana paolo garbisi abbiamo ritrovato l'apertura e paolo garbisi ha ritrovato la dieci anche col suo nome sulla spalla questa volta si è aperta una polemica dove non mi voglio assolutamente mettere in questo momento mi interessa molto di più pensare al gioco di paolo garbisi quattro assist meta gliene sono stati conteggiati ho visto tre ma ce n'è anche uno col calcetto insomma creatore di gioco una partita dove si prende tutta la pressione della difesa samuana addosso e gioca quelle si è preso tanti tanti contatti ma è bravissimo al giocare a giocare nell'aprire i corridoi e e poi non solo perché si danna in difesa pennella linee eh a a tracciare il campo con il piede e insomma paolo garbisi insieme a stefan varney la mediana della settimana numero 11 men of the match dei pumas che vincono a twickenham serve dire altro sì il nome emiliano bofelli numero 12 da quando fossi lo ha messo a primo centro gli all blacks come per magia sembrano aver risolto tutti i loro problemi e dire che erano tanti problemi se vi ricordate beh vorrà pur dire qualcosa giordi barrett riscoperto ehm un un giocatore nuovo in una posizione nuova numero 13 alla 13 anche qui andiamo al mondiale femminile e premiamo di nuovo una francese gabrielle vernier la difesa della francia in questo mondiale è stata veramente da manuale ne sappiamo qualcosa anche noi la settimana scorsa abbiamo premiato la filopon questa settimana tocca all'altro centro gabrielle vernier quasi ci riuscivano l'ho detto anche prima ma chi ha visto la partita non se la dimenticherà facilmente numero 14 sempre francia però questa volta andiamo al maschile allora vi ripeto quello che ha detto il telecronista francese in quel momento oh oui monsieur beno allora step prende la spalla debole accelerazione se ne mangia tre e la francia vince la partita oh oui monsieur damien beno e ancora francia ancora francia non me ne ho accorto facendo il 15 of the week ma gli ultimi tre nomi sono tutti francesi miglior giocatore del top 14 del mese arriva in nazionale dove c'è un galtier che crede e non crede in lui gli ha sempre preferito jaminet dove invece dove invece in nazion in nel club molà preferisce lui in come titolare insomma avete capito stiamo parlando di thomas ramos altra prestazione ad altissimo livello si era preso il migliore della settimana giocando all'apertura adesso va e gioca all'estremo sia il piede che con il pallone tra le mani e una delizia per gli occhi e poi senti mallet mallet ve lo ricordate no nick mallet quello che fece giocare bergamasco a mediano di mischia a at weeknam senti mallet dire che è uno che sa solo calciare in fondo in fondo non è un gran giocatore basta ragazzi spero che vi sia piaciuta spero che vi sia piaciuta la 15 of the week anche questa settimana ci vediamo questa sera con ottavio in live per festeggiare chiacchierare festeggiare con moderazione perché abbiamo una partita con l'australia che ci aspetta come se la dovessimo giocare noi per il resto fischio finale un grande grandissimo bacio e ci vediamo questa sera ciao